Ciao ragazzi, sono pronto a rispondere al quiz Quanto conosci gli azzurri? Veloti, quante doppiette ha segnato il nazionale? Nessuna Una o due? Questa andrà a caso Due Vediamo la risposta Due Entrambi contro Julis e Stain 2016-2019 Emerson Qual è stata la sua prima squadra in Italia? Penso sia stato Palermo Palermo Sì, Palermo Eccolo lì Palermo Prossima Berardi Cosa gli sarebbe piaciuto fare se non avesse fatto il calciatore? Barman Idraulico autista Oddio Mamma mia, questa è la spara a caso Non ho idea L'idraulico Barman Dopo gli chiedo Donnarumma Ha parato il primo rigore in Serie A Ad un vostro compagno Quale? Insigne Immobile o Veloti Sono indeciso Però Penso sia immobile Nooo No Veloti Era Veloti Ho sbagliato Ancora Barella Ha segnato più o meno Guardi dei nazionali Di Romano Non so Eh, va beh, questo non vada però Gli stessi Non va bene questo Da quante stagioni gioca con la maglia della Juventus? Schiellini Sedici Undici Dicenove Undici Non conosco i miei compagni ragazzi Sedici Mamma mia Gio Sedici Chiesa Stravede per un dolce in particolare Quale? Tiramisu Cheesecake Strudel A caso Cheesecake Buona idea Cheesecake Secato uno Immobile Quanti gol ha segnato in Serie A? 97 108 155 Se in una stagione ha fatto 36 36 Già 10 anni 155 Vediamo Eccolo lì Il bomber 155 Bernardeschi Bernardeschi In quale partita ha esordito il nazionale? Zero opzioni Spagna Spagna Vediamo Italia e Spagna Quella del mio esordio Lui ha esordito con me Ebbene Ebbene Citi Mancini Con quale squadra ha vinto il suo primo trofeo d'allenatore? Lazio, Fiorentina, Zenit Ehm Questa ma posso sbagliare Se non mi fa giocare più Fiorentina Vediamo Eccolo lì, Coppa Italia Fiorentina 2000-2001 Ehm Non siete stati carini Le domande erano molto difficili Cercate di fare il mio meglio E niente Grazie mille Forza Azzurri